Buongiorno Francesca, volevo soltanto farti qualche domanda in merito al laboratorio a cui stai partecipando ormai già da qualche mese, la prima cosa che volevo chiederti è come hai conosciuto le biblioteche di Roma e la casa dei bimbi in particolare? La casa dei bimbi io sono stata molto fortunata perché parlando con la mia vicina di casa è uscito fuori che dovevo assolutamente venire qui in questo momento particolare della mia vita e da quel giorno in cui me ne ha parlato non ho saputo resistere, praticamente sono venuta a vedere un po' i laboratori che fanno il pomeriggio e poi ho scoperto che c'erano anche laboratori per mamme, anzi proprio la mia vicina di casa me l'aveva detto, mi ha detto guarda vai perché sicuramente potrai fare qualsiasi cosa come mamma gestante, poi con la tua bimba vedrai che ti piacerà tantissimo. E quindi tu hai partecipato al profumo di latte di musica e parole, adesso siccome noi è già dal 2009 che facciamo questi lavori, ma tu hai fatto un lavoro particolarissimo, quindi io vorrei proprio farlo vedere e tu ce lo racconterai, quindi hai fatto il primo libro tattile praticamente. Sì, doveva essere un piccolo libro da tenere nelle manine di una bimba, ma io talmente presa dalla bellezza di quello che stavo facendo ho cominciato a aggiungere pagine, 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 è stato molto divertente e anche bello metterti un po' alla prova. E quindi adesso ce lo racconti molto brevemente, anche se sicuramente tu chissà quanto avresti da dire. Andiamo allora. Ok, allora, lo metto così. Allora, qua ho scritto il libro di Chiara perché la mia bimba si chiamerà Chiara e ho provato per la prima volta a ricamare, non guardate esattamente i punti, come sono stati messi. È stato molto bello però pensare a Chiara ogni minuto. Ho iniziato con il raccontare quello che io e mio marito vorremmo nella nostra vita, diciamo, di tutti i giorni, cioè stare comunque sempre immersi nella natura. E poi proprio nel momento in cui ho iniziato a fare questo libro stavamo cercando casa e fortunatamente, probabilmente, dovremmo averla trovata. E la cercavamo chiaramente piccolina, non troppo grande, però comunque con un pezzettino di terra, di giardino per poter cortivare, per poter mettere qualche piantina. Quindi volevamo raccontarle un po' quello che stavamo vivendo io e mio marito. E quindi va bene, insomma, poi abbiamo preso qualche pezzettino, un pezzo di presina per fare l'albero e abbiamo preso questa pecorella, l'abbiamo presa da un vestitino di una bimba che ci avevano regalato, che non ci piaceva tanto il vestitino. Quindi abbiamo preso un pezzettino di questo vestitino e abbiamo pensato di aggiungerlo. E poi piano piano abbiamo cominciato a giocare. All'inizio chiaramente le idee venivano qui nella biblioteca, poi magari di sera a casa mi mettevo a finire piccole rifiniture, come questa cucitura qui che ho sbagliato. E il mio marito è stato meraviglioso perché lui mette mano nelle mie imperfezioni, le rende perfette e ha deciso di metterci una bella seccionata che coprisse il mio malefatto. E poi abbiamo pensato di fare una cosa rumorosa, in maniera tale che Chiara potesse divertirsi. Abbiamo messo un cavalluccio perché mi ricorda sempre mia sorella. Mia sorella voleva fare la cavallerizza, voleva stare sempre con i cavalli. In un qualche modo c'è riuscita sicuramente una bella, una brava biologa marina, quindi era un modo per raccontare a Chiara la mia sorellina. E piano piano abbiamo cominciato a giocare, io e mio marito, anche alla biblioteca abbiamo pensato con l'altra mamma di fare qualche animaletto che sbucasse da qualche angolino per far giocare i nostri bimbi. Questo me l'ha prestato la mamma con cui abbiamo cucito insieme, Francesca, questa stoffa e quindi mi ricorda tantissimo lei. E da questa stoffa poi sono arrivate tutte le idee più geniali, anche a casa ho preso questo pezzetti di stoffa per fare qualche piccolo pensiero ad alcune amiche. Poi abbiamo continuato praticamente facendo così, insomma, sempre un po' giochicchiando per farla giocare a Chiara e quindi abbiamo pensato di metterci qualcosina nascosta, una taschina dove chissà ci metteremo qualcosa quando sarà un po' più grande. E abbiamo preso tutte le stoffe che ci ricordavano i nostri cari, questo mi ricorda mia nonna che era una sarta, io non sono per niente sarta, si può vedere da come ho cuscito, però mia nonna mi aveva fatto un completino con i pantaloncini se non sbaglio, comunque una gonna pantalone con questa stoffa e quindi era un modo per riprendere e ricordare la mia nonnina. E poi piano piano siamo andati avanti, abbiamo preso questo trenino e mio marito ha detto ma dobbiamo mettere altri trasporti e allora abbiamo preso questi aerei per ricordare un po' il movimento lento sempre, anche se l'aereo insomma non è proprio un movimento lento, però poi abbiamo aggiunto la tartaruga per ricordare alla nostra bimba che chi va piano ma sana e va lontano e si porta insomma alla sua casina. Soprattutto ci siamo ispirati alle storie che leggevo durante questi giorni di laboratorio, ho letto tanti libri qua che mi prendevo in prestito e mi hanno ispirato, infatti questo viene da un'ispirazione di un libro che si chiama Papà mi prendi la luna e da lì mi sembrava giusto che questo coniglietto poverino solo soletto con questa luna dovesse comunque a chiaparla in qualche modo. E poi ho continuato, siccome io adoro il mare avevo bisogno di fargli capire quanto era importante poi per me e chissà magari anche per mia figlia, il sentire l'odore del mare, il rumore delle onde e quindi insomma ho provato un po' a farle, a ricordarle un po' la mia vita e chissà la nostra vita insieme e ho concluso con l'angioletto che le dà la buonanotte e chissà che magari un giorno quando le poterà raccontare una storia, inventerò una storia con questo libro ogni volta diversa e abbiamo deciso di concluderla con un angioletto che le augura la buonanotte e questo è stato il mio, la prima volta di ricamato qui interi lunedì a ricamare, ricamare, prima o poi imparerò a ricamare come Romano, però qualcosa è venuto fuori molto carino. È bellissimo, è bellissimo, devo dire bellissimo. E niente, poi abbiamo finito con un gattino che acchiappa la farfalla e qua poi quando sarà grandicella magari ci mettiamo sempre qualcosina così ci potrà giocare. Ok, senti ci puoi dire proprio due paroline su quello che è stato per te comunque questa esperienza in biblioteca? Ma è stato molto importante perché sono stata fortunatissima perché avevo tutto il tempo a disposizione quindi mi sono proprio goduta questo momento di gravidanza al meglio però non avrei mai pensato che avrei potuto dedicarmi a me per poter regalare qualcosa alla mia bimba, di solito uno pensa mi devo dare da fare, fare qualcosa che faccia bene a lei, invece in realtà questa cosa ha fatto più bene a me, poi chissà, è un dare e ricevere. Senti quanto manca il momento meraviglioso che è in mancita? Mancano quasi di due mesi, anzi di meno di due mesi. Abbiamo ancora un bel po' da fare noi. E poi quando arriverà Chiara ci aggiungerà anche lei. Non mi dolorerà. Grazie Francesca, tantissimi auguri. Grazie. Un bacio. Ciao. Mi ha raccontato una cosa molto importante, l'emozione. Quando Francesca, la ragazza che stava insieme a me a cucire, mi ha portato questo, mi ha fatto vedere questa stoffa, io mi sono innamorata di questa stoffa perché il mio colore preferito era la carta da zucchero, ma poi lei mi ha raccontato che questa era la stoffa di quando lei allattava ai primi tempi il suo primo bimbo e lei lo allattava tranquillamente senza paura, siccome la mia più grande paura è non sapere allattare o comunque avere paura, avevo paura che non avevo la possibilità di essere serena nel momento dell'allattamento. Quando lei mi ha raccontato che è stato così invece naturale allattare per lei, chiaramente è stata accompagnata anche qui nella biblioteca, quindi mi ha rassicurato, allora le ho chiesto un pezzettino di questa stoffa per poterla guardare, ogni volta che ho paura guardo questa stoffa per ricordarmi di non avere paura e poi mi ha raccontato che in realtà tutti possiamo allattare, che non dobbiamo avere paura e parlando con Giovanna, sempre con Francesca ho conosciuto il consultore di Via dei Levi e lì ho iniziato il corso preparto con Celeste e da lì proprio tutte le paure alla fine sono andate via, in un certo senso ci sono però ci si sente sempre più guidate, più rassicurate, da soli non si può fare, quindi se qualsiasi paura posso andare da Celeste oppure posso venire qui da Giovanna e da Emma o chiamare Francesca e dirgli Franci come hai fatto, quindi mi hanno proprio fatto capire quanto è importante chiedere aiuto e non avere paura. Grazie, brava.